Approcciare ragazze per strada in tempi di coronavirus è possibile oppure non si può più fare? Quindi in questo video andremo a smontare questa cazzata che tantissimi uomini hanno in testa del fatto che adesso non si può più approcciare, le ragazze sono diffidenti, c'è il coronavirus è impossibile, le mascherine, le distanze, le restrizioni. Adesso andiamo a smontare tutta questa mega cazzata che tantissimi uomini che da quando è partito il coronavirus, già la maggior parte di uomini erano già pippati mentalmente prima sul fatto che per strada non si può, c'è l'ansia di approccio e se mi vedono, cosa penseranno le persone? Già la maggior parte di uomini erano pippati mentalmente prima ci fosse il coronavirus. Adesso questa cosa è amplificata per cento volte, adesso lo vedremo durante il corso di questo video, andremo a smontare questa mega cazzata, quindi lo anticipo già, sì è possibile, però serve appunto dal mio punto di vista, ovvero di esperienza, io esco tranquillamente, ho risultati, faccio i corsi al vivo dove poi si ottengono risultati, quindi dal mio punto di vista lo vedo che è possibile, però tante persone hanno necessità, è giusto, è giusto che si abbia necessità di vedere che si può fare per poi credere che si possa fare e di conseguenza iniziare a replicarlo tu personalmente, quindi in questo video ti andrò anche a fornire le prove del fatto che sì, si può fare tranquillamente, è possibile, poi lo andiamo anche ad argomentare un po'. Partiamo subito con le dimostrazioni, quindi ti farò vedere adesso alcune foto di miei approcci, di miei appuntamenti, eccetera, per andare a farti vedere che si possono fare certe cose, dopo vedremo anche alcuni spezzoni di videotestimonianze, di alcuni corsi al vivo fatti subito dopo il primo lockdown che c'è stato da marzo a maggio 2020, quindi vedremo proprio che cosa dicevano appunto gli studenti subito dopo il primo lockdown, che appunto la situazione, l'approccio prestata era un'incognita anche per me, sono uscito, io ero in giro fin dal primo giorno, fin dal 5 maggio 2020, il lockdown era finito il 4 maggio, poi sono stato in giro due mesi, poi dopo lo raccontiamo per bene, anche se l'ho già raccontato in parte in altri video, però andiamo a vedere che cosa dicevano appunto gli studenti dei primi corsi al vivo dopo il primo lockdown, quindi partiamo prima con le foto, ora in realtà queste non è che sono foto, sono screenshot di video, perché appunto esco regolarmente con il cameraman a filmare i miei approcci, poi vengono messi i filmati a tre canali nascosti dentro i miei videocorsi, però questo qua, questa è una ragazza, però c'era settembre 2020, non mi ricordo che normativa ci fossero, però appunto come vedi la ragazza ha la mascherina, non c'è nessun tipo di problema, io non avevo la mascherina perché appunto in quel periodo non era obbligatoria, e come puoi vedere nella foto successiva qua si vede me e lei che siamo in casa, e noti che è la stessa ragazza perché il vestito è lo stesso, ok? Questa ragazza qua, altrimenti l'ho raccontato già in un altro video, l'esperienza di questa ragazza qua, è un video che si chiama tipo dall'approccio al sesso in quattro ore, ragazza difficilissima, perché appunto è una ragazza che è stata anche abbastanza difficile portarla a casa, ma non per il coronavirus, perché c'erano delle obiezioni su alcune cose, poi che ho risolto, non è questo l'argomento del video, però se noti il vestito è lo stesso, ok? Lo faccio notare, poi la gente è scettica, quindi altra ragazza. Questa qua invece è subito dopo il primo lockdown, quindi qua si parla di maggio 2020, come vedi io ho la mascherina, la ragazza ha la mascherina, non c'è nessuno in giro, come puoi vedere, e questo è Milano, però non c'è nessun tipo di problema, ok? Con questa ragazza qua ci ho parlato tranquillamente, questi erano proprio i primi giorni dopo il primo lockdown, e niente, ci siamo andati in stand date, in stand date sarebbe l'appuntamento istantaneo, quindi lei era appunto libera, l'interazione stava andando bene, e questa ragazza qua, come vedi appunto all'inizio ci siamo seduti un po' più distanti, ma non perché volessimo sederci distanti, perché ci hanno fatto sedere così, anzi all'inizio mi avevano fatto sedere proprio frontale a lei, cioè c'era tipo un tavolo lungo due metri, e io ho detto, cioè non possiamo sederci così lontani, quindi io poi mi sono messo sul lato adiacente del tavolo, poi dopo l'ho fatta anche sedere lei vicino a me, e quindi qua la foto, questo invece era solo una foto, non c'è il video qua, e quindi non ho lo screenshot di quando poi eravamo seduti vicini, però qua fondamentalmente siamo stati seduti un po' di tempo, in realtà non è durato tanto, tipo una mezz'ora, ho iniziato un po' con il contatto fisico durante questo appuntamento istantaneo, però il bacio poi l'ho fatto dopo, e qua il bacio, che è stata una situazione abbastanza particolare, il bacio l'ho fatto poi quando eravamo in camminata con la mascherina, poco prima che ci stavamo per salutare, appunto sapevo che tra poco ci saremmo salutati, e ho fatto una roba abbastanza, diciamo, mi rendo conto richieda un po' più di esperienza e coraggio, a un certo punto, dopo aver fatto contatto fisico nella maniera appropriata, poi dopo ne parliamo anche un po', tipo l'ho fermato, l'ho preso appena un fianco, e l'ho abbastato, no prima non mi ricordo se mi sono abbastato prima io la mascherina o prima lei, però è una cosa abbastanza lenta, quindi prima l'ho abbastata la mascherina, poi l'ho abbastata... io non è una cosa che consiglio di fare, è meglio farlo nella location, il bacio, in questo caso è finita così perché lei doveva andare, non ho avuto abbastanza tempo, però è una cosa che si può fare, ok? Però mi rendo conto fatta in questo modo, in camminata con le mascherine, è un po' più difficile, ma si può fare. Altra foto, questa qua, nulla di particolare, semplicemente di un mio approccio con la mascherina, ce ne sono tante altre, però adesso qua le vediamo abbastanza velocemente, qua non mi ricordo che mese fosse, penso forse ottobre 2020, perché appunto non c'era l'obbligo di mascherina, però la ragazza comunque aveva la mascherina, ok? E' semplicemente per far vedere che è possibile, quindi queste foto servono per dar prova al tuo cervello del fatto che è possibile, si può fare, non c'è nessun tipo di problema, se sai come farlo. Questa invece è una foto di un appuntamento istantaneo, vedi che è la stessa ragazza, perché è vestita nello stesso modo, ok? Quindi questa ragazza qua l'ho approcciata per strada, come detto, non mi ricordo che mese fosse, penso settembre o ottobre 2020, e vedi che è la stessa ragazza, perché ha lo stesso vestito, quindi siamo andati poi dopo a prenderci un caffè in un bar, si sono seduti all'aperto, perché non ci si poteva sedere al chiuso, ma si può fare, ok? Basta sapere come fare, e soprattutto non bisogna pipparsi mentalmente sul fatto che non si può fare, impossibile, le ragazze sono spaventate, tutte cazzate, adesso le vedremo per bene durante il corso di questo video. Questa invece è una foto di un corso al vivo, poi dopo vedremo anche degli ispezioni, delle videotestimonianze di questi corsi al vivo, qui, quindi qua, come vedi, la persona è la stessa, la ragazza è la stessa, si vede l'approccio in strada, e si vede poi loro che si sono seduti in un instant date. Qua, questo è maggio 2020, quindi subito dopo il lockdown, altro corso al vivo, sempre maggio 2020, poi tra poco vedremo anche proprio, sentiremo alcuni ispezioni delle videotestimonianze, dove loro raccontano come è stato, diciamo, l'uscire ad approcciare subito dopo il primo lockdown, che era, diciamo, il momento, diciamo, di più incertezza, ovvero, boh, come si farà, si potrà approcciare, le ragazze saranno spaventate, quindi, adesso poi lo vediamo tra poco, come vedi qua, le persone sono le stesse, la ragazza è vestita nello stesso modo, è la stessa ragazza, non è un fotomontaggio, non è una roba finta, chi pensa sia una roba finta, non so che dirgli, appena abbandoni questo video e basta, non so come convincere persone così stupide, quindi, andiamo avanti, sempre la stessa persona della foto precedente, sempre stesso corso al vivo, sempre stessa giornata, altra ragazza, altro appuntamento istantaneo, come vedi sono le mascherine di mezzo, non c'è nessun tipo di problema, si può fare tranquillamente, sempre stessa persona, sempre stesso corso al vivo, sempre stessa giornata, altro appuntamento istantaneo, quindi come vedi ci sono le mascherine, non c'è nessun tipo di problema, si può fare tranquillamente, ok, devo dare, sto cercando di dare più prove al tuo cervello, del fatto che è possibile e si può fare, ok, in questo modo si va a sconfiggere paure, dando prove oggettive reali del fatto che si può fare, altra foto, qua vediamo un po' di foto un po' più, diciamo, random di corsi al vivo, qui come vedi, qua addirittura la stretta in mano, che io in realtà non consiglio di fare, perché appunto, su questa cosa qua, la ragazza sì, potrebbe essere un pochino più diffidente, per la stretta in mano, io infatti non la faccio, la stretta in mano, a meno che non è lei, diciamo, a porgermi la mano per prima, però qui come vedi, non c'è nessun tipo di problema, e qua si vede un po' di sfuggita, che la ragazza ha la mascherina, altra foto, sempre stesso studente, ragazza con la mascherina, ah, questo qua addirittura, poi con questa ragazza qua, c'è anche finito a letto, qualche giorno dopo il corso, poi uscirà la videotestiamianza di questo ragazzo, e altra ragazza con la mascherina, va bene. E questi sono solo una piccola parte, di alcuni ispezioni, di miei approcci, miei appuntamenti, miei appuntamenti istantanei, corsi dal vivo, eccetera, andiamo a vedere adesso, alcuni ispezioni di videotestiamianza, di chi ha fatto i corsi dal vivo, a maggio 2020, subito dopo il primo lockdown, e che cosa dicevano, riguardo appunto, la situazione coronavirus. La giornata si è sviluppata, con una ventina di approcci, parliamo comunque, in un ambiente diverso dal normale, mascherine, nessuno tipo di chino, di contatto fisico, quindi relativa a quella che è la dinamica, comunque molto più limitata rispetto al normale, e su questi 20 approcci, ho avuto 4 risultati positivi, in termini di numeri, di cui 2 sono solidi, secondo quello che è un mio punto di vista, quindi ho avuto già un feedback, subito dopo il contatto, subito dopo aver preso il contatto, mentre altri 2 sono in attesa, quindi probabilmente non così solidi, non porteranno a frutti. Ad ogni modo, in uno stato così, diciamo, alterato rispetto alla condizione normale, e per essere anche una prima, una prima improvvisata, diciamo, nel campo del day game, direi che la coaching ha ottenuto un ottimo risultato, quindi tutta questa parte, che in pochissime ore, ha portato comunque a interazioni prolungate, senza quindi dei contrasti immediati, tranne qualche caso, che ovviamente deve esserci, se no non esisterebbe la statistica, e probabilmente saremo tutti senza bisogno di un corso, giusto? Comunque, la giornata di oggi, sono riuscito a fare 17 approcci, e un instant date, con una modella ucraina, e quindi non male, sicuramente c'è un clima diverso, rispetto a prima del coronavirus, almeno qui a Milano, ci sono meno modelle, meno turisti, quindi meno stranieri in generale, non è più possibile come prima, magari evitare, o essere un po' indecisi, ma tutte le ragazze che ci sono, bisogna, ovviamente, a maggior ragione, approcciarle, perché quelle disponibili, sono inferiori, rispetto a prima del coronavirus, e abbiamo visto che comunque, ci sono straniere, ci sono modelle, penso che oggi ne ho approcciate, almeno tre o quattro, tra cui quella dell'instant date, quindi, è sicuramente possibile, tornare a fare, dei game, approcci di giorno, per strada, c'è il tema della mascherina, che è un po' fastidioso, perché si fa fatica a respirare, però le ragazze rispondono bene, se uno fa pratica, l'interesse c'è, è possibile, comunque, praticare abbastanza regolarmente, un po' come era prima, insomma, mettendo sui diedi, dedicando del tempo, è vero, ci sono le maschiline di mezzo, però comunque, il processo, rimane uguale a prima, quindi, le persone che cambiano, dall'oggi al domani, globalmente, e, ci sono un po' di adattamenti da fare, magari c'è meno, meno contatto, meno stretta di mano, cose del genere, però, in generale, il processo che ho spiegato nel corso, nel videocorso, è comunque valido, rimanerà sempre valido. Allora, quindi, oggi, cos'è? Oggi, 31 maggio, ho fatto la... 2020. Oggi, 31 maggio 2020, ho fatto la prova, appunto, la giornata di prova, gentilmente offerta, appunto, da Luca, sull'approccio per strada, quindi, siamo tornati a fare l'approccio per strada, dopo, dopo il coronavirus, quindi, dopo, diciamo, dopo la parentesi coronavirus, siamo tornati a vedere come è la situazione, praticamente, la mia situazione di partenza, che ho, che ho dichiarato, anche quando ho cominciato a fare, a fare questa esperienza, era quella sostanza di principiante, cioè, praticamente, ho avuto già altre relazioni, ho già avuto, già qualche piccola esperienza di approccio per strada, comunque, avevo delle difficoltà, diciamo, delle difficoltà che ho affrontato durante la giornata di oggi, quindi, a livello di statistica, la giornata di oggi, praticamente, ho fatto nove, nove approcci e tre, e tre stand date, quindi, quindi, semplicemente andando, trasferendo la ragazza, praticamente, dalla strada, in pochi minuti, nel, in un bar, in un locale, in modo da, in modo da parlare, diciamo, da parlare, da riuscire a approfondire la conoscenza, quindi, ovviamente, come succede sempre, abbiamo trovato, abbiamo trovato, in alcune case del, del ragazzo, appunto, che erano più, più aperte, socievoli, più desiderose di comunicare, e altre, invece, che magari erano più restie, più timide, così, comunque, in generale, la situazione che abbiamo trovato, sia a livello di persone che girano, sia a livello di come hanno reagito, agli approcci, è stata positiva, quindi, diciamo, che non abbiamo avuto particolare difficoltà, a causa di, a causa delle mascherine, e di tutto il resto, quindi, da questo punto di vista, la situazione è stata, è stata tranquilla. ora, di corsi a vivo, non sono stati fatti solo questi qua, nel 2020, questi qua sono alcuni, di corsi a vivo, fatti subito dopo il primo lockdown, quindi a maggio 2020, ci sono tutti i corsi a vivo fatti, poi durante il resto dell'anno, ok, quindi poi da giugno, luglio, fino a poi, a dicembre, quindi, adesso, non stiamo qua a vederli tutti, però, sempre, diciamo, nella fase più o meno iniziale, mi sembra che fosse tipo giugno, forse luglio, non mi ricordo, sono stati fatti altri corsi a vivo, me ne ricordo alcuni, anche dove i risultati sono stati molto, molto buoni, poi puoi andarti a vedere le videotestimonianze, non so, poi magari, non lo so, magari poi metterò il link in descrizione, così si possono andare a vedere tranquillamente, però, è stato un corso a vivo di sette giorni, dove lo studente, è riuscito a fare sette appuntamenti istantanei, in sette giorni, più anche, mi sembra, uno o due appuntamenti, più anche una ragazza pronta a casa, tre ragazze baciate, cioè, tutto pubblico, c'è la videotestimonianza, e subito dopo il corso a vivo, andato a letto con altre due ragazze, più o meno, subito entro una o due settimane, e questo, periodo, quasi subito dopo, il primo lockdown, l'altro ragazzo, e poi, questa non è ancora pubblica, poi dovrà uscire, come videotestimonianza, quando verrà montata, prima o poi verrà montata, e caricata sul canale, e di uno studente, in realtà, alcune foto, le abbiamo viste prima, però poi il video, deve essere ancora pubblicato, che durante il corso a vivo, adesso non mi ricordo, non mi ricordo, avevo fatto un po' di appuntamenti istantanei, mi sembra un appuntamento, una ragazza baciata, adesso non mi ricordo in ogni dettaglio, però mi ricordo, che dopo, entro tre settimane, dopo il corso a vivo, ero andato a letto con, non mi ricordo se non tre o quattro, ragazze, ok, poi uscirà la videotestimonianza, a tempo debito, quando verrà montata, però, tutti i risultati ottenuti, più o meno nel periodo iniziale, dopo il primo lockdown, quindi parliamo di maggio, giugno, luglio, al massimo, e oltretutto, una cosa che ho notato, facendo un po' il punto della situazione, è che tutte le ragazze, o comunque quasi tutte le ragazze, con cui sono state a letto, da quando è partita la questione coronavirus, e anche nei corsi a vivo, i studenti, le ragazze con cui sono state a letto, gli studenti di corsi a vivo, erano tutte con la mascherina, o quasi tutte con la mascherina, anche nel periodo estivo, in cui la mascherina non era obbligatoria, però comunque c'erano tante ragazze, che la tenevano comunque, e i risultati maggiori sono stati ottenuti, approcciando ragazze con la mascherina, ok? Magari potresti pensare, e lo pensavo anch'io, ok? Io infatti inizialmente non approcciavo, quando la mascherina poi non era più obbligatoria, che è stata per un periodo, non è stata più obbligatoria, per una parte del periodo estivo, bellissimo, approcciavo soltanto ragazze, che non avevano la mascherina, perché, dicevo, saranno meno pippate mentalmente, forse sì, ma poi facendo un po' il punto della situazione, ho visto che in realtà, quasi tutte le ragazze, con le quali sono finito detto io, oppure gli studenti di corsi al vivo, facendoci caso, poi nell'approccio, effettivamente andandoci a ripensarci, cazzo, abbiamo la mascherina, quindi occhio, perché potresti pensare, che sono pippate mentalmente ragazze, ma no, sei te quello pippato mentalmente, è normale, finché non si ottiene informazione, ma stai ottenendo adesso informazione, quindi poi dopo non hai più scuse. Prima di andare avanti, analizziamo un attimo, punto per punto, i vari problemi mentali, che hanno gli uomini, nell'approccio alla ragazza adesso, in tempi di coronavirus, quindi parliamo prima di tutto, della questione brevemente, della questione distanze, che c'è il metro di stanza, un metro e mezzo di stanza, non si capisce un cazzo, se c'è un due metri, un metro e mezzo, ok, non c'è nessun tipo di problema, è proprio l'ultimo dei problemi, perché non hai mai cambiato questa cosa qua, anche prima, quando approcciavi una ragazza di giorno per strada, devi tenere anche prima la distanza, ok, fondamentalmente sei uno sconosciuto, stai approcciando una ragazza sconosciuta, poi più lei cammina veloce, più devi mantenere la distanza, queste sono le regole prima del coronavirus, e che valgono anche adesso, più lei cammina veloce, più devi mantenere la distanza, più lei passeggia, quindi cammina lentamente, più puoi andare vicino, quindi, ma in ogni caso, c'è sempre stata la distanza, non è che le puoi andare a due millimetri di distanza, è una ragazza che non conosci, quindi la questione distanza, è l'ultimo dei problemi, non è mai cambiata questa cosa, la questione mascherina, capisco, mi rompo il cazzo anch'io, a mettere la mascherina, a parlare con la ragazza, con la mascherina, ma è semplicemente un problema mentale, sei tu che ti prendi male per questa cosa qua, bisogna accettarla prima possibile, se ancora non l'hai accettato, poi quando non sarà più obbligatoria, quando la toglieranno, adesso è inutile stare a fare previsioni, adesso si parla di vaccino, magari fra un mese è finita, magari, o magari no, quindi io faccio il video comunque, magari se ne parlerà ancora per un bel po' di tempo, non lo so, è inutile stare a fare previsioni, però, devi capire che si tratta semplicemente di un tuo limite mentale, le foto le hai viste, si può approcciare tranquillamente ragazze, sia che tu hai la mascherina, che lei ha la mascherina, entrambi avete la mascherina, non c'è nessun tipo di problema, ti dà fastidio la mascherina, ti dà fastidio a tutti, ti puoi allenare per esempio, a parlare, se magari la indossi già durante le tue giornate, magari non so, lavori tutto il giorno tenendo la mascherina, già sei abbastanza allenato, nel parlare con la mascherina, se no, ti alleni in casa, a parlare con la mascherina, fai proprio degli esercizi di conversazione, dove magari parli a ruota libera, per 5-10 minuti, e lo fai regularmente tutti i giorni, per allenarti nella conversazione con la mascherina, ok, mi ricordo, il primo appuntamento che ho fatto, dopo la fine del primo lockdown, mi ricordo, è stato veramente faticoso, perché non ero abituato, a parlare con la mascherina, però è semplicemente una questione di allenamento, poi la questione ragazze diffidenti, le ragazze sono più diffidenti adesso, non le puoi approcciare perché sono diffidenti, innanzitutto, se continui a riscontrare ragazze diffidenti, stai sbagliando tu l'approccio, che ci sia il coronavirus o che non ci sia, stai sbagliando tu l'approccio, l'altra cosa è che non è vero, ok, poi lo vedremo dopo, ma io l'avevo già messo negli appunti per dopo, però magari lo diciamo già adesso, io ho detto, come detto, il primo appuntamento, che ho fatto subito dopo la fine del primo lockdown, quindi parliamo di maggio 2020, sono andato lì con l'incognita, boh, cosa dovrò fare, dovrò fare contatto fisico, non dovrò fare contatto, era un appuntamento all'aperto, perché non c'erano i bari aperti, non c'era niente aperto, quindi sono andato lì con l'incognita, dovrò fare contatto fisico, non dovrò fare contatto fisico, lei sarà spaventata, cosa dovrò fare, le distanze, quindi sono andato lì con l'incognita, appena sono andato lì con l'appuntamento, ho visto che la ragazza non si faceva il minimo problema, ok, quindi il problema è sempre da parte dell'uomo, ci si fa pippe mentali, limiti mentali, e poi ti impediscono di agire, ok, tanti sono ancora lì rinchiusi in casa, che guardano da spettatori, ok, non c'è nessun tipo di problema, è tranquillamente fattibile se sai come farlo, la questione restrizioni, anche là semplicemente bisogna prendere atto di quali sono le limitazioni, le normative, eccetera, e poi ci si adatta a seconda di qual è la situazione, ho fatto svariati aggiornamenti ai miei videocorsi, soprattutto al videocorso dall'approccio al sesso, c'è proprio un modulo nuovo, che l'ho messo da marzo, no, d'aprile 2020, e che è stato aggiornato ad aprile, è stato aggiornato a luglio, e c'è stato anche l'aggiornamento di novembre, ok, perché costantemente bisogna riadattare alcune cose, a seconda se le location chiudono alle 18, se sono chiuse totalmente, se c'è la zona gialla, arancione, rossa, eccetera, quindi se c'è il lockdown totale, quindi, ma semplicemente bisogna prendere atto di quali sono le normative, e poi le adatti a seconda di quali sono, e fai l'appuntamento in un certo modo, piuttosto che in un altro, ok, ma non ha senso dire, non si può fare, no, c'è la soluzione, semplicemente sei te che non la vedi, e che non la stai neanche cercando, ok, in questo video ti darò già degli accenni di queste soluzioni, quindi come spero che si stia iniziando a capire, intuire, è semplicemente un problema ambientale, se te che ti stai autolimitando, ti stai autoconvincendo, ti sei autoconvinto, che non si può fare, non è così, si può fare, non c'è il suo tipo di problema, basta capire come farlo, ok, e soprattutto smettere di guardare quella cazzo di tv, perché lo scopo è semplicemente infonderti paura, ok, perché le persone sono pippate mentalmente su tutte queste cose qua, perché si bombardano il cervello, tutti i giorni, morti di qua, morti di là, crisi, non si può fare questo, non si può fare quello, poi ne parlano con gli amici che gli danno anche se lo stesso tipo di opinione, di credenza, io non ho la tv, e non guardo la tv da, penso, boh, 6, 7, 8 anni, non ne ho la minima idea, posso garantire che sto benissimo, io appunto, uno dei motivi per cui non ho avuto tutte queste pippe mentali, è perché non mi espongo a questo tipo di condizionamento, ok, tutti i condizionamenti che hai durante il corso delle giornate, dei mesi e della tua vita, ok, ti condizionano poi ad agire in un certo modo piuttosto che in un altro, sei costantemente, paura, morti, eccetera, poi parli con persone spaventate, ti convinci che la realtà è quella, ok, ma quella è una parte della realtà, poi ci sono anche persone, come ho detto, poi lo vediamo forse meglio dopo, le ragazze sono esseri molto più sociali rispetto all'uomo, proprio scientificamente, da parte non penso servano, dati scientifici però, le donne in media in una giornata pronunciano 9000 parole, l'uomo 3000, e si evince che le donne sono esseri molto più sociali, quindi lo soffrono molto di più, un lockdown, un isolamento, ok, quindi poi dopo hanno molta molta più voglia di conoscere e di socializzare, ero in casa tipo un mese fa con una ragazza, abbiamo fatto l'appuntamento spesa più, poi casa mia, poi dopo ne parliamo, delle modalità di appuntamento che ci sono a seconda del periodo, a seconda se è tutto chiuso, ci sono i bar chiusi, eccetera, e proprio mi diceva perché appunto, l'ho portata proprio in un senso di, non so come dire, non so, lei appunto lavorava tanto, e non le piaceva il suo lavoro, quindi l'ho detto, ok, oggi stacca tutto, ci divertiamo e basta, ridiamo, eccetera, e poi mi diceva, poi mi ha detto, cazzo, mi mancava proprio il fatto di farmi una serata, spensierata, divertirmi, chiacchierare, poi dopo è finita anche piuttosto bene la serata, facendo un appuntetto direttamente a casa, è molto facile poi andarci anche a letto con la ragazza, però proprio, e le ho detto proprio questa cosa qua, che le ragazze di solito soffrono di più, un isolamento, ok, quindi le ho detto proprio lei, le ho spiegato questa cosa qua, ma lo sto spiegando anche in questo video, le donne sono esseri molto più sociali rispetto all'uomo, quindi soffrono molto di più un isolamento, di conseguenza poi dopo c'è molta più voglia di uscire, conoscere, socializzare, il sesso è un bisogno anche della donna, non solo dell'uomo, ora parliamo di alcune cose che sono oggettiente, cambiate, alcuni riadattamenti ci sono da fare nella conoscenza di ragazze, comunque adesso quelli vediamo in maniera un po' più superficiale, semplicemente per andare a smontare la cazzata del fatto che si pensa che non si possa più approcciare per strada, eccetera, poi i metodi passo passo in maniera completa li trovi nell'aggiornamento fatto nel videocorso approccio al sesso, come ho detto è stato un aggiornamento progressivo, c'è stato l'aggiornamento di aprile, poi mi sembra o giugno o luglio, e poi l'altro aggiornamento di novembre appunto a seconda di come evolveva la situazione, quindi dal vivo al momento, sì, in realtà è leggermente più difficile per chi non aveva nessuna esperienza o per chi ha poca esperienza, per me non ha cambiato fondamentalmente nulla, per chi aveva già esperienza e era già capace non ha cambiato assolutamente nulla, però per chi parte da zero o con poca esperienza, sì, dal vivo in realtà attualmente è un pochino più difficile, attualmente intendo finché c'è l'obbligo di mascherina da parte tua, poi magari la ragazza può anche avere la mascherina, ma se comunque tu non hai la mascherina, perché magari per esempio nel periodo estivo del 2020 c'è stato un periodo in cui la mascherina non era obbligatoria, quindi tu potevi approcciare tranquillamente senza mascherina, la ragazza magari aveva la mascherina, però lì non c'è nessun tipo di problema, va benissimo, lì in quel modo non aumenta la difficoltà, aumenta leggermente la difficoltà perché se hai la mascherina ragazza non può vedere che sorridi, e sorridere nella parte di apertura quando vai approcciare una ragazza è molto importante per prevenire le reazioni di diffidenza, ma non perché c'è il coronavirus, in generale approcciare una ragazza sorridendo aiuta molto di più a fare in modo che le risponda positivamente, ovviamente poi l'altro impedimento della mascherina non è perché magari hai difficoltà a parlare, quello non c'entra niente, là è semplicemente una questione di allenamento, la cosa che può dare problemi a chi ha poca esperienza è il fatto che non si riesce a vedere bene la reazione della ragazza, non si riesce a vedere come reagisce, se è spaventata, se è imbarazzata, se non capisce cosa sta succedendo, se ha reagito positivamente, io mi ricordo quella ragazza che ho fatto vedere all'inizio, la ragazza che poi ha portato a casa il giorno stesso in 4 ore, mi ricordo che lei rideva, io capivo che rideva, però non lo capivo subito, cioè ci mettevo un attimo a capire che stava ridendo a quello che dicevo, perché non si vedeva l'espressione facciale, quindi nel momento in cui non riesci a vedere la reazione della ragazza, già la maggior parte dei uomini sbagliano l'approccio proprio perché non riescono poi a leggere la reazione della ragazza, questo proprio in generale, quindi anche quando non c'era il coronavirus, quindi adesso addirittura che non riesci neanche a vedere la metà della faccia della ragazza, è più difficile leggere la reazione della ragazza, per me non c'è nessun tipo di problema perché lo riesco a vedere anche solo dagli occhi, o comunque in generale si sviluppa quella che si chiama intelligenza sociale, poi dopo non è nessun tipo di problema a leggere la reazione della ragazza e a tararti di conseguenza, ma come ho detto, per chi ha poca o nessuna esperienza, questo in realtà è un problema aggiuntivo, ma comunque non è impossibile, ragione per cui non stare a deprimersi, io ho parlato adesso di quello che è un problema oggettivo, ma comunque non è che adesso è diventato impossibile allora, quindi motivo per cui non stare a perdere tempo e darsi da fare, poi dopo ne parliamo anche meglio alla fine, del fatto che tantissimi hanno buttato un anno nel cesso, adesso è quasi un anno che parli da questa storia qua, tantissimi uomini hanno buttato un anno nel cesso, però tantissimi uomini non facevano niente già prima, quindi un anno in più, un anno in meno, non cambia niente, ed è così che poi ci si ritrova a 40-50 anni, che non hai ancora mai fatto niente nella tua vita a livello sentimentale, hai sempre l'ansia d'approccio, hai l'imbarazzo di guardare una ragazza negli occhi, non sai mai che cosa dire, non sai mai che cosa fare, quindi per tante persone in realtà non è cambiato nulla, un anno in più, un anno in meno buttato nel cesso, non cambia niente. Per chi invece ci tiene di più a propri risultati, alla propria vita sentimentale, un anno è un casino di tempo, ok? Quindi, come ho detto, smetterla di deprimersi, ho detto che c'è un po' più di difficoltà per l'approccio al vivo, e quindi? Fa niente. Qual è l'alternativa? L'alternativa è perdere tempo, non si sa quando finirà questa cosa, poi dopo ne parliamo meglio alla fine del video. Altre modifiche che ci sono state sono sulla parte di contatto fisico e sulla parte logistica, soprattutto sulla parte logistica, il contatto fisico non è cambiato molto, semplicemente io nella parte di apertura non faccio la stretta in mano, a meno che non è lei a porgermi la mano, quindi oltretutto li vedo che la ragazza ha proprio a zero, zero pippe mentali, quindi semplicemente io non faccio più la stretta in mano, a meno che non è lei a porgermi la mano, e poi soprattutto sulla parte del piano logistico, sulla parte logistica, dove farei appuntamenti, se i bar chiudono a un certo orario, se i bar non sono aperti, se c'è zona gialla, arancione, rossa, non si capisce più niente, in realtà si capisce nel momento in cui ti metti lì a capire che cosa c'è da fare a seconda delle normative, ma ci sono le soluzioni, le vedremo poi, le accenniamo poi durante il corso del video, adesso le accenniamo un po', come ho detto, le soluzioni sono già state date abbondantemente nel videocorso Approccio al Sesso e nei vari aggiornamenti che sono stati fatti. A livello logistico, tanti bar, tanti lounge bar, sono tutti chiusi e non hanno più riaperto, ok? Quindi, se tu avevi già, a parte che in realtà di solito le persone non ci pongono neanche attenzione alla scelta della location, quando in realtà è una delle parti fondamentali che poi determina il risultato, perché se non scegli una location adatta, che faciliti il contatto fisico, eccetera, non si fa contatto fisico, non si arriva al basso, e di conseguenza neanche al Sesso, quindi la scelta della location è super importante, è un problema dei motivi per cui le persone non otteniamo prima risultati e non li ottengono tuttora risultati. Quindi io, una delle prime cose che ho fatto è stata cercarmi delle location nuove da fare gli appuntamenti e le location non sono tutte uguali, ok? Serve che abbiano certi requisiti spiegati all'interno del videocorso d'Approccio al Sesso, quindi mi sono cercato nuove location e le location che avevo prima, tante location che utilizzavo prima, non hanno più riaperto, quindi se io non avessi fatto questa ricerca di nuove location e mi fossi basato sulle location che avevo prima, magari mi saltava fuori un appuntamento, portavo la ragazza in quel posto e poi scoprivo che era chiuso e posso garantire poi l'appuntamento si fotte per questi motivi, però poi improvvisi vai nella location sbagliata, non si riesce a fare contatto fisico, finita i seduti frontali e poi non si riesce a fare niente e parlo da un punto di vista di molta esperienza su questa cosa qua perché erano sbagliati tanti di appuntamenti ai tempi, parliamo di 2015, 2016 e l'ho visto e se non ti rendi conto di questa cosa è perché semplicemente non hai fatto mai appuntamenti in vita tua oppure ne hai fatti molti pochi oppure ne hai fatto giusto qualcuno e ti è andato bene per caso ma la parte della scelta della location è importantissima. Appuntamenti con i bar che chiudono alle 18 è importante sapere come gestirli, ok? perché metti che tu non hai mai a disposizione il pomeriggio per fare l'appuntamento nei bar che magari ci sono stati dei momenti in cui i bar erano aperti fino alle 18 ok? e sicuramente magari ci saranno anche altri momenti non lo si sa, dipende da quali normative ci saranno, ci saranno magari dei momenti in cui i bar sono di nuovo aperti solo fino alle 18 e come fai se devi fare un appuntamento di sera? ok? ci sono dei modi, sono spiegati negli aggiornamenti del videocorso dell'approccio al sesso poi fate gli appuntenti in passeggiata ma la passeggiata non è una passeggiata e basta si parte magari prendendo qualcosa da sporto dovete passeggiare per certi punti strategici ok? che mi rendo conto possono suonare strane queste cose ma non... prova a fare un appuntamento a caso in passeggiata poi fammi sapere quanto riesci a farlo andare bene però andare bene significa non solo che arrivi al bacio significa che poi arrivi anche al sesso oppure magari arrivi al bacio però poi la riesci a rivedere la ragazza riesci poi ad andarci letto al secondo appuntento siccome io queste cose le ho già fatte e ho già visto quali sono le criticità di un appuntento in passeggiata in un appuntento in passeggiata non c'è il contatto visivo se fai un appuntento totalmente solo in passeggiata non c'è il contatto visivo e il contatto visivo è importante per creare attrazione ok? a molte persone sembrava una cazzata questa cosa qua ma tutte queste cazzatine sono esattamente i motivi per cui poi le persone non hanno successo negli appuntenti per esempio in questo caso quindi la passeggiata va studiata ok? non si fa a caso la passeggiata quindi poi spiegato nel videocorso approccio al sesso si passa per certi posti va mixata con diciamo diversi come dire diverse parti però appuntenti per esempio magari alle 18 quindi prima delle 18 magari fai un appuntento di pomeriggio riesci a beccare la ragazza magari in un giorno che lei è libera anche tu sei libero di pomeriggio vi vedete il pomeriggio magari vanno cercate anche delle location adeguate per esempio io utilizzo un lounge bar che è aperto dalle 15 fino alle 18 perché poi chiude alle 18 parliamo appunto di periodi in cui i bar erano aperti fino alle 18 e un lounge bar quindi potevo sfruttare quelle tre ore in cui era aperto era perfetto non c'era nessuno c'erano i divani l'atmosfera serale essendo un lounge bar ti portavano anche l'alcol quindi potevo ricreare un appuntamento serale però di pomeriggio ok? questa cosa mi ha facilitato molto gli appuntamenti e oltretutto in realtà nei momenti in cui i bar nei periodi in cui i bar chiudevano le 18 in realtà quando ci sono queste limitazioni qui in realtà da una parte è molto più facile portare una ragazza a casa per poi giustificarlo molto più facilmente con il fatto che è tutto chiuso quindi andiamo a casa mia adesso lo sto banalizzando l'invito va fatto in un certo modo che anche questo è spiegato nel videocorso dell'approccio al sesso i momenti in cui tutti i bar sono chiusi quindi parliamo di momenti per esempio di zona arancione oppure il periodo subito dopo il primo lockdown dove i bar erano ancora tutti chiusi c'erano solo le girate riaperte e zona rossa adesso non stiamo qua ad entrarci in tutti i dettagli però si possono fare per esempio l'appuntamento di passeggiata l'ho già citato ma non è una passeggiata e basta l'ho già spiegato c'è l'appuntamento questa è un'opzione che mi è tornata molto molto utile molto molto profittevole ovvero l'appuntamento spesa più andare a casa ok? per il tecnicismo il come farlo come ho detto c'è il videocorso apposito l'ho spiegato in uno degli aggiornamenti ma in realtà da una parte è molto molto facile questa cosa qua chiaramente c'è un processo a fare bisogna creare molta fiducia con la ragazza quindi sia che approcci i ragazzi dal vivo sia anche che le approcci online era un metodo anche diciamo molto molto buono per chi non si vuole buttare un approccio dal vivo e in realtà è una cosa da tuttora attuale a quanto meno la data che sto registrando questo video poi man mano che le cose si sbloccano di più poi adesso è inutile stare a fare previsioni perché non si sa quanto durerà ancora questa cosa però ho fatto diversi appuntamenti dove conoscevo la ragazza che fosse dal vivo oppure che fosse online prendevo il numero la sentivo via messaggio ci scappiamo anche dei messaggi audio facevo magari anche una telefonata con lei per rinforzare ancora di più la fiducia e poi c'era l'invito per vedere sia magari direttamente a casa mia o a casa di lei però di solito non facevo neanche direttamente a casa mia o a casa di lei c'era sempre prima magari spesa insieme quindi magari ci si vedeva per cucinare insieme eccetera quindi però prima si passava a fare la spesa spesa insieme e poi casa questa qua è una cosa che mi ha portato veramente molti molti risultati durante appunto tutte queste varie limitazioni però se invece sei lì a dire ma minchia non si può fare è impossibile non vedi queste soluzioni qua ok come ho detto in realtà è stato molto molto più facile portare la ragazza a casa perché oggettivamente non c'è niente di aperto quindi è molto più facile portarla a casa io lo puoi giustificare molto facilmente questa cosa qua e non passi neanche per allupato non passi per quello che pensa sempre al sesso che è una cosa negativa la ragazza non deve avere questo tipo di percezione però passa molto più facilmente non passi dall'upato perché oggettivamente non c'è niente di aperto i bar chiudono i 18 quindi dove andiamo andiamo a casa chiaramente va fatto in un certo modo poi molto brevemente la cosa che ho già detto prima ovvero che le ragazze attualmente sono molto più predisposte per il fatto che è un bisogno della donna il bisogno di socialità la ragazza la donna è un essere molto più sociale rispetto all'uomo quindi soffre molto di più un isolamento il fatto di non poter uscire non parlare con nessuno eccetera ok di conseguenza le ragazze hanno molta più voglia di socializzare poi ovviamente ci saranno anche quelle pippate mentalmente che no ho paura eccetera va bene ok ma in realtà solo una piccola percentuale e soprattutto non le becchi neanche dal vivo perché dal vivo appunto le ragazze sono iper pippate mentalmente e non escono neanche quindi non c'è nemmeno pericolo che le becchi per strada ovviamente qualcuna la puoi beccare lo stesso ma la maggior parte non le beccherai perché sono così pippate mentalmente che non escono neanche quindi c'è proprio una selezione naturale su questa cosa qua anche per chi è nelle piccole città non cambia niente ho dato anche dei metodi specifici nel videocorso approccio al sesso per chi vive nei piccoli paesini di provincia quando c'era la zona arancione non ci si poteva spostare di comune in realtà è una cosa tuttora attuale dipende poi dai giorni dipende dal periodo eccetera e ho dato proprio dei metodi per quanto riguarda chi sta nei piccoli paesini c'è comunque sempre l'approccio durante la quotidianità ok le ragazze ci sono anche dove vivi te magari non c'è un flusso alto ma comunque ci sono delle ragazze che puoi approcciare durante la quotidianità ok se esci ok o se non esci c'è semplicemente l'approccio online ok l'approccio online non c'è nessun tipo di problema come ho detto io ho utilizzato molto il metodo di appunto conoscere le ragazze online prendere il numero sentire su whatsapp sentire in un certo modo anche utilizzando messaggi audio le chiamate anche per le chiamate proprio chiamare la ragazza ma fate in un certo modo se lo fai a caso ti schienterei e basta e questa cosa serviva per creare più fiducia per poi invitare la ragazza direttamente a casa mia spesa più casa ok quindi anche per chi vive nei piccoli paesini c'è comunque l'approccio durante la quotidianità oppure per chi non se la sente anche per chi vive nelle città grandi non te la senti di approcciare al vivo perché nonostante tutto quello ancora detto ti senti pippato mentalmente va bene ok esiste l'approccio online ok anche se comunque poi approcciando una ragazza online comunque a un certo punto la dovrai vedere dal vivo che ci sono i bar che chiudono alle 18 la dovrai vedere comunque dal vivo magari con la mascherina quindi comunque dovrai passare attraverso questo tuo questo tuo pippamento mentale non so come dirlo o comunque se magari la porti direttamente a casa magari l'approcci online e utilizzi il metodo spesa più casa e comunque devi passare comunque una parte in cui vi vedete al vivo e ok quindi c'è comunque quella devi passare comunque questo tipo di ostacolo ma non è un ostacolo è un ostacolo se lo vedi come un ostacolo ma non c'è nessun tipo di problema ok veramente alcune ragazze veramente le vedevo che era veramente palese che non ne potevano più che volevano socializzare che proprio me ne ricordo una che ho fatto troppo un tento spesa più casa che appena l'ho vista già lei iniziava lei con il contatto fisico quindi quando quando è così evidente in realtà io non rispondo neanche al contatto fisico lascio che sia lei a continuare col contatto fisico e tanto so che poi posso fare la mia mossa quando voglio ok quindi non c'è nessun tipo di problema smetterla di pipparsi mentalmente se non l'hai capita ti riguardi questo video finché non lo smetti di pipparti mentalmente l'ultima cosa sulla quale vorrei far ragionare chi sta guardando questo video è che questa storia è già partita da circa un anno adesso questo video uscirà credo a gennaio 2021 penso di sì non lo so quindi è già partita da circa un anno questa storia qua del coronavirus e tanti stanno ancora guardando da spettatori da quando è iniziato quindi da più o meno febbraio 2020 e adesso si parla di vaccino non si sa se poi finirà ma non lo so non è inutile stare a fare previsioni ma semplicemente non si può provvedere se finirà fra un mese due mesi fra un anno fra due anni ok non lo puoi provvedere vuoi aspettare finché finisce non c'è questa garanzia ok e soprattutto nel corso di una vita non è che puoi fare molti errori che ti costano un anno due anni o tre anni metti che questa cosa finisce fra un anno fra due anni ok aspetti ancora quindi in totale avrai perso tre anni della tua vita come ho detto per molti in realtà a questa cosa non gli cambia niente perché tanto rimandano da tutta una vita quindi tre anni in più tre anni in meno non gli cambiano niente ma se ci tieni di più la tua vita sentimentale se vuoi effettivamente fare qualcosa e so che questi miei video sono guardati anche da persone di tutte le età dai 16 anni fino ai 47 anni 50 anni non è che puoi fare cioè ragionci un attimo nel corso di una vita qualsiasi età tu abbia che hai 18 anni che hai 45 anni non è che puoi fare non puoi fare molti errori che ti costano tre anni nel corso di una vita perché poi dopo un po' il tempo è finito ok quindi gente smettela di pipparsi mentalmente per chi è interessato a imparare approccio al vivo c'è il mio videocorso d'approccio al sesso per chi è interessato invece all'approccio online quindi magari non se la sente di approcciare dal vivo benissimo c'è il mio videocorso che si chiama seduzione online trovi tutte le informazioni sul mio sito www.approcciala.it c'è anche il link in descrizione se hai qualsiasi tipo di dubbio domanda vuoi chiedere delle informazioni c'è un numero di telefono sempre in descrizione per parlare con un mio collaboratore puoi sia chiamare quel numero sia scrivere su whatsapp quindi vediterà un po' te detto ciò ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao